oggi a castelluccio di norcia siamo qui alla taverna castelluccio con una vista veramente spettacolare a castelluccio di norcia Sì. Grazie a tutti. 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 Oggi a Castelluccio di Norcia. Siamo qui alla Taverna Castelluccio con una vista veramente spettacolare. E adesso ci facciamo un bel pranzetto. Poi qualche foto, un po' di camminata, anche perché per i saliti, anche a fare 700 metri a piedi dopo pranzato saranno devastanti. E ora vediamo che ci portano da mangiare. A dopo. Siamo alle rese con l'ordinazione. Vedo che stiamo tutti un po'... Che gruppo? Sì, sì. Ma andate con le foto insieme così qua... Io lo mandavo tutto. Posso prendere il menu? Adesso le porto il vino e mi dici che ne pensi? Vai! Sì Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.